Il caso di Sara, nata in Sicilia, ci ritorna su un barcone, ma il giudice si riserva. Bambini in campo, progetto di inclusione sociale su iniziativa della SD Rugby Elimi Trapani. Un'aggressione da decifrare. Ennesimo episodio di violenza a Marsalea è avvenuto nel weekend in zona Stadio. Buonasera e ben trovati con la fascia serale del Tg Sud. La vicenda di Sara, iniziamo così, il nostro Tg, nata in Sicilia, destinataria di un decreto di espulsione emesso dalla questura di Trapani e al centro di una battaglia legale. Il servizio. Il desiderio di riabbracciare la madre e i fratelli che vivono a Catania. Il viaggio a bordo di un barcone per tornare in Sicilia, l'isola dove è nata e cresciuta fino all'età di 7 anni quando è stata rapita dal padre che l'ha trascinata in Tunisia. La vicenda della giovane Sara è oggi al centro di una vera e propria battaglia legale che ha preso il via lo scorso mese di agosto quando la 21enne, dopo un vero e proprio viaggio della speranza, ha raggiunto l'isola di Pantelleria. Un solo desiderio, quello di ricongiungersi con la propria famiglia. Per le autorità però Sara va rimpatriata, decisione alla quale si oppone con fermezza il legale della giovane, l'avvocato Giuseppe Lipera, che ha presentato ricorso contro il decreto firmato dal questore di Trapani. Dopo una prima bocciatura, la storia di Sara è tornata oggi in tribunale. Al termine dell'udienza che si è svolta questa mattina, il giudice Rosario Maria Cutri, presidente della prima sezione civile del Tribunale di Catania, si è riservato di decidere. L'avvocatura dello Stato, per conto della questura di Trapani e del Ministero dell'Interno, ha chiesto la conferma del decreto di espulsione, definendo farneticanti e lucubrazioni le tesi a sostegno della ragazzina formale dell'avvocato Lipera. Ma il legale non ci sta e ha richiesto l'immediata cancellazione degli atti di causa dell'espressione offensiva ingiuriosa, annunciando querela per diffamazione nei confronti del rappresentante dell'avvocatura dello Stato. La fattispecie concreta in cui si trova la giovanissima Sara, ha ribadito il difensore della giovane, non è disciplinata ad alcuna norma, perciò va risolto col buonsenso. Questa ragazza è nata a Catania, in questa città ha lasciato la madre e i tre fratelli solo perché è rapita dal padre. Ha tentato innumerevoli volte di ricongiungersi con la madre, ma le macchine burocratiche del nostro ordinamento gliel'hanno sempre impedito. Il caso di Sara potrebbe riaprire il dibattito sullo Ius Soli. Parte da Trapani una storia tutta da raccontare all'insegna della ricerca scientifica e della solidarietà. Vediamo il servizio. Arriva. Arriva tra poco. È una storia commovente che scalda i cuori e accende soprattutto la speranza. È la storia di Sara e dell'amore dei suoi genitori. La bimba, 7 anni, di Trapani, è affetta da una rara malattia genetica che provoca molteplici disturbi, tra cui problemi motori di coordinazione ed equilibrio. Già il termine scientifico fa paura. Atassia, spino, cerebellare, con alterazione del genere ITPR1. Davanti alla malattia, papà e mamma non si sono mai arresi e il loro coraggio e la loro determinazione hanno aperto una nuova frontiera per una patologia di cui si parlava poco e di cui se ne sapeva ancora meno. Fino a tre anni fa, quando i genitori di Sara hanno deciso di infrangere quello che era una sorta di tabù. La svolta in una telefonata. La mamma della bambina, infatti, contatta l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, numero 1, in Italia, lanciando la sua proposta, avviare la ricerca scientifica sulla tassia. I genitori di Sara fanno, personalmente, una importante donazione che sta permettendo ai ricercatori di trovare una cura. Tante famiglie si sono già avvicinate all'ospedale romano, affidando al personale medico i loro bambini affetti dalla stessa mutazione genetica dell'ETPR1 di Sara, trovando una speranza in quella ricerca avviata grazie al contributo della famiglia trapanese. Oggi è stata creata una campagna di crowdfunding sul sito della Fondazione dell'ospedale stesso. L'indirizzo per partecipare è quello che vedete in sua impressione. Per iniziativa di un'altra famiglia, tutto ciò il cui scopo è quello di raccogliere ulteriori risorse per la ricerca. Ricerca che nel frattempo sta già dando i primi risultati. Di recente è stata scoperta una nuova molecola che potrebbe aprire altri orizzonti. L'obiettivo generale è quello di convalidare che la molecola scoperta agisca come agente farmacologico per migliorare sensibilmente le condizioni dei pazienti. Questa rara malattia sta toccando il cuore di molti. In campo è sceso anche il campione di tennis Yannick Sinner, che ha messo all'asta la sua racchetta per accogliere fondi per Atturo, un bambino affetto da un'altra forma di malattia genetica che trova origine nell'alterazione del gene ITPR1. Per portare avanti la ricerca della speranza a Sara, Arturo e a tutti gli altri bimbi servono però altre donazioni. Bambini in campo al quartiere. Sant'Alberto ha preso il via oggi un progetto sportivo di inclusione sociale e servizio. Inaugurato oggi pomeriggio è il progetto rivolto a bambini e ragazzi del quartiere Sant'Alberto. Protagonista la società SD Rugby Elimi Trapani, che grazie all'idea di Don Fabiano Castigliona vedrà realizzati percorsi ludico-sportivi rivolte a più piccoli rappresentanti del Riona all'interno del campetto di calcio a Tiguale Chiesa Sant'Alberto. Sicuramente il nostro scopo è quello sociale per questa iniziativa realizzata da Don Fabiano. Noi come squadra del Trapani Rugby abbiamo lo scopo di includere socialmente i bambini del quartiere e farli divertire attraverso attività multidisciplinari. Un'iniziativa privata volta alla riqualificazione di uno dei quartieri popolari della città. Ascoltiamo ai nostri microfoni, Loris Alestra fa autore del progetto. Mi trovavo nelle aule adiacenti al campetto di calcio, dove prestavo servizio come volontario per il dopo scuola. Passando dal campetto e vedendolo in stato di abbandono, mi sono detto perché non creare un'ora di attività fisica per i bambini del quartiere, per chi ha la possibilità ma anche per chi non ha la possibilità. Quindi ci siamo attivati con la SD Rugby Elimi di Trapani, l'unica società presente sul territorio di rugby, per creare proprio questo momento di gioco, di interazione tra i bambini e dare la possibilità a tutti di avere un momento di attività fisica e di unione, di integrazione. Iniziative come queste promosse per rilanciare le attività ludico, ricreative, ma anche sportive, soprattutto per i più piccoli. Cosa vuol dire? È il punto fondamentale per cercare di rialzare anche in qualche modo i quartieri cosiddetti popolari, spesso ritenuti di serie B, in realtà non è così. Qui ci sono tante famiglie, tanti bambini, tante attività assolutamente meritevoli e grazie ai ragazzi del rugby, ma anche con la parrocchia, con Don Fabiano, adesso si sta mettendo in moto un bel meccanismo che siamo sicuri che darà i suoi frutti. Questo campetto vedrà davvero una rivoluzione, una ristrutturazione totale e voglio ribadire assolutamente a carico di privati della parrocchia, che è un intervento fatto interamente da loro, però è un punto fondamentale di svolta per cercare di dare anche a questo quartiere un po' più di solidità. Il Movimento 5 Stelle Sicilia propone un disegno di legge per vietare i cellulari ai bambini piccoli. Ansia, crisi di panico, scoppi di rabbia improvvisa, svenimenti e ancora disturbi del sonno, alterazione dell'umore, ritardato sviluppo del linguaggio, tachicardia, azzeramento quasi dei rapporti sociali. Possono essere questi e tanti altri i contraccolpi all'uso sconsiderato di smartphone, videogiochi e altri dispositivi digitali da parte dei bambini molto piccoli e degli adolescenti. Per correre ai ripari, il pediatra deputato Movimento 5 Stelle a Lars Carlo Gilistro ha messo a punto un DDL voto che sarà presentato ai giornalisti martedì 20 febbraio alle 11 presso la sala stampa di Palazzo dei Normanni. Il testo mira a vietare l'uso delle apparecchiature digitali ai bambini nei primi anni di vita e a limitarle fortemente fino ai 12 anni. Punta inoltre a lanciare una campagna di informazione sui pericoli cui i genitori possono esporre inconsapevolmente i propri figli mettendoli in mano precocemente un'apparecchiatura digitale. E adesso la cronaca, un uomo con alle spalle piccoli precedenti e in fin di vita vittima di una misteriosa aggressione accaduta a Marsala sabato sera dove un cinquantenne è stato pestato nella zona dello stadio. I protagonisti dell'episodio di violenza lo avrebbero tempestato di calci e pugni lasciandolo agonizzante sull'asfalto. Un'aggressione per il momento tinta di giallo del caso. Si occupano i carabinieri che hanno avviato le indagini per far luce su una vicenda ancora tutta da decifrare. Qualche elemento in più per risalire agli aggressori al momento i militari lo potrebbero avere dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che sono state già acquisite. E torniamo a Trapani perché continuo a tenere banco proprio nel capologo la vicenda legata alle opere previste nell'ambito della ZES. Le opere previste nell'AZES come il nuovo viadotto, l'allargamento della via libica, diverse rotonde ed una nuova strada nei pressi della ex Salina Collegio sono state nel giorno scorso al centro di un incontro promosso da Editros che ha invitato anche la direttrice della riserva delle salite Silvana Piacentino che ha fatto il punto sul progetto soffermandosi su vari aspetti come Rete Natura 2000 ma anche il canale Reda. È importante fare un ragionamento su quelle che sono attualmente le aree contigue riserva naturale, Rete Natura 2000, Porto e aria industriale, quindi aria ASI che oggi è anche ZES. Non devono esserci posizioni di chiusura a priori ma bisogna capire cosa realmente serve e bisogna capire come effettivamente trovare un'integrazione a tutto ciò se è possibile. Nel caso delle opere previste dall'AZES attualmente l'ente gestore della riserva che è un soggetto competente in materia ambientale ha espresso un parere sulla progettazione che rispetto ai contenuti di alcuni documenti di natura propria ambientale si evidenziano delle carenze. Le carenze sono diverse. Io ricordo a tutti che si può partecipare alle procedure ambientali, si possono anche vedere le procedure ambientali attraverso i portali dove è pubblicata tutta la documentazione affinché il cittadino sia informato. Oltretutto aggiungo che nel caso specifico dell'ente gestore della riserva uno degli elementi che ha portato ad esprimere anche un parere negativo sull'intervento è che una parte degli ampliamenti che si vanno a fare del tratto di strada già esistente implica delle trasformazioni all'interno di Rete Natura 2000 e uno degli elementi di riflessione nasce anche dall'utilizzo che se ne farebbe del canale Reda. Il canale Reda è un canale che cinge la salina Reda, ciò che è rimasto della salina Reda. è un canale che storicamente porta l'acqua del mare verso l'interno ed è un canale che viene utilizzato dai salinari che si collega all'interno della riserva a tutto un sistema di canali che è uno di quegli aspetti importantissimi sia per la tutela della natura sia per l'attività produttiva. Sconveriamo il dubbio, il canale Reda non è un canale di scolo delle acque, il canale Reda è un canale di salina. A Roma si è svolto un incontro tra autorità per preservare il patrimonio naturale agricolo dell'isola di Pantelleria. Vediamo il servizio. Il commissario straordinario del Parco Nazionale di Pantelleria Italo Cucci ha tenuto un incontro a Roma con il sottosegretario del Ministero dell'Ambiente, il senatore Claudio Barbaro, per discutere delle attività di salvaguardia del Parco Nazionale di Pantelleria. In particolare sono stati affrontati gli annosi problemi relativi ai vigili del fuoco durante gli incendi e le iniziative a favore dell'agricoltura eroica dell'isola. A tal proposito è stato annunciato il prossimo festeggiamento a Parigi del decennale del riconoscimento UNESCO del 2014 per la pratica agricola della vita d'alberello tipica di Pantelleria. Il commissario Italo Cucci ha poi incontrato il generale Teo Luzzi, comandante dell'Arma dei Carabinieri, che ha segnato al Parco un presidio fisso di quattro carabinieri forestali. Bene, questo era l'ultimo servizio. Adesso la palla passa a Stefania Renda per la pagina sportiva. Da parte mia e di tutta la redazione un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.